non uccidiamoli vi prego non uccidiamoli una seconda volta sono le parole forti sofferte sincere gridate ieri nel salone dei cinquecento in palazzo vecchio sono le parole che i familiari ieri hanno gridato con loro volto la loro storia la loro fatica la loro speranza non uccidiamoli una seconda volta essi non uccidiamoli con il silenzio con la delega con la rassegnazione con le differenze attenti non uccidiamoli con la memoria rituale celebrativa fino a se stessa non uccidiamoli la memoria deve sempre diventare impegno e il miglior modo di fare memoria ce lo ripotiamo sempre è quello di impegnarci di più tutti tutti trecentosessantacinque giorni all'anno ma noi vogliamo esprimere anche qui la riconoscenza alle persone ferite in quelle stragi ai sopravvissuti perché anche loro li dobbiamo sentire vicino vicino ma una parola particolare questa mattina un ragazzo della polizia di stato delle scorte stava venendo qui per per accompagnarci in questo generoso servizio e in un incidente ha perso la vita vittorio giordano che sarebbe stato qui con noi sarebbe stato qui con noi sarebbe stato qui con noi se ne è andato questa mattina anche lui anche lui è morto per la democrazia nell'adiepimento del suo servizio vittima del dovere avrebbe accompagnato noi tutti noi non c'è più vittorio lo ricordiamo in quella memoria vera che da 18 anni perché da 18 anni e mai abbiamo fatto i morti di serie a e di serie b e siamo andati ogni anno nei luoghi dove sono morte le persone non si può essere contemporaneamente in tutti i posti ma in tutti i posti quei nomi a voce alta abbiamo ricordato e soprattutto li ricordiamo col nostro impegno tutti i giorni e che oltre 150 mila persone siano presenti qui è un segno che c'è un'italia oggi 16 e il 21 marzo in tutte le piazze d'italia che vuole fare della memoria l'impegno meno parole più fatti non uccidiamoli una seconda volta non uccidiamoli con la mafiosità la mafiosità capite che può anidarsi in ciascuno di noi la mafiosità delle coscienze addormentate o addomesticate perché ci sono tante coscienze addomesticate in questo paese la mafiosità del tanto non mi riguarda dell'alibi della superficialità la mafiosità come cattivo odore di una società dove il diritto conta meno della forza e la protezione non la si cerca nelle leggi ma nel favore del potente di turno la mafiosità di quanti hanno intimidito di quei potenti di turno di quei potenti di turno che hanno cercato di ostacolare fino in fondo quelle indagini anche nella strage di viareggio come nelle altre stragi come la tisa in gruppo di torino dove ci si dimentica in fretta i morti dell'eternit questo è lungo elenco questo bisogno di verità che anche quei 108 morti e 17 dispersi di quel volo del 1978 a z 4128 tra roma e palermo dove molti interrogativi restano aperti la mafiosità chi vuole coprire chi vuole frenare i potenti e i forti di turno vi prego ribelliamoci il 70 per cento di voi non conosce la verità non conosce la verità o la si conosce solo in parte non uccidiamoli o la mafiosità una seconda volta mafiosità le tante tentazioni a piegarsi a quelle forme di legalità sostenibile maleabile che sono continua mediazione fra lecito e illecito ma voi sapete che sono l'anticamera della penetrazione mafiosa nei territori nella cultura nella mentalità della gente si non uccidiamoli una seconda volta con le parole rituali generiche con tanti dibattiti convegni tanti lasciatemelo dire sono auto referenziali con delle passerelle che non finiscono più abbiamo bisogno di cose vere di cose vere di dibatti di convegni seri di sostanza di denuncia e di proposta abbiamo bisogno se non uccidiamo una seconda volta di un parlare serio capace di ascolto un parlare sobrio puntuale documentato vero no no a parole vuote e senza carne no a un parlare disimpegnato che sentiamo ogni tanto no a parole irresponsabili sono gravi le parole irresponsabili che abbiamo sentito e che purtroppo continuiamo a sentire come chi dice che i magistrati sono peggio della mafia sono parole gravi parole che offendono che uccidono una seconda volta la vostra dignità è una ferita dentro di noi e dentro di voi no non è retorica non è demagogia che non ci appartiene è la verità perché abbiamo il dovere e la responsabilità delle parole queste parole offendono feriscono uccidono una seconda volta e attenti vi prego la mafia è una peste la mafia è una peste la mafia è una peste chiamatela con questo nome con questo nome è una peste che noi ci trasciniamo che bello vedere un papa che si chiama si fa chiamare francesco segno di essenzialità mi auguro di una chiesa capace di essere più dalla parte dei poveri degli ultimi della fatica del dolore delle persone una chiesa libera una chiesa libera ma soprattutto una chiesa profetica e meno diplomatica ma attenzione i papi passano e che bello vedere i volti nuovi quest'aria fresca i deputati i senatori i governi passano ma purtroppo è da secoli che non passa la mafia nel nostro paese e da 400 anni che parliamo di camorra da 200 anni che parliamo di cosa nostra e decenni e decenni e decenni che parliamo dell'andrangheta e quei spiragli ogni tanto della sacca crononita ma perché ma perché ma perché ma perché e questo non vuol dire vi prego la stima la riconoscenza a quel generoso impegno e lavoro di magistrati delle forze di pulizia di quelle parti delle istituzioni fortemente impegnate avete sentito quel numero di sindaci e di amministratori impegnati per una politica che non si è voltata dall'altra parte una politica di trasparenza di contenuto di legalità ma non basta non basta e 400 anni che noi parliamo di camorra 200 anni di cosa nostra e della andrangheta e allora non uccidiamoli una seconda volta con mari di parole di promesse e soprattutto evitiamo il furto delle parole perché ce le stanno rubando queste parole ce le stanno rubando perché che non parla di legalità che non parla di pace che non parla di giustizia che non parla di lavoro e poi siamo qui ce l'hanno svuotate del loro valore e del loro significato e a parlare di legalità innanzitutto in Italia i primi sono quelli che la calpestano tutti i giorni difendiamole le parole difendiamole le parole dai manipolatori dai seduttori non uccidiamoli vi prego non uccidiamoli una seconda volta con la sola indignazione basta non basta indignarci quanti si indignano e poi l'indignazione si cura con la dignità si cura restituendo dignità alle persone al lavoro alla cultura alla democrazia dobbiamo restituire dignità e allora dobbiamo essere capaci e la cura per la dignità vuol dire più responsabilità abbiamo bisogno di guardare anche dentro di noi alle nostre responsabilità alle nostre responsabilità per essere più prossimo alle persone e per cercare di essere insieme ho detto insieme motore di cambiamento voi non vedete questa piazza immensa immensa qui c'è la veramente la più grande trasversalità del nostro paese perché qui voi rappresentate mondi contesti espressioni storie diverse tutti insieme noi dobbiamo unire ciò che le mafie e il mondo dei potenti dei corrotti vogliono dividere dobbiamo unire dobbiamo unire è il noi è il noi che vince e insieme nella quotidianità perché solo unendo le forze degli onesti la richiesta di cambiamento diventa forza di cambiamento non uccidiamoli una seconda volta vi prego non uccidiamoli una seconda volta con leggi che indeboliscono gli strumenti di indagine e depotenziano il controllo di quei reatti che delle mafie sono l'anticamera a partire l'hanno detto già altri discuteremo di questi specifici problemi in quei 25 gruppi di lavoro nel pomeriggio lì ci ascolteremo studieremo cercheremo di conoscere di fare proposte ma qui qui dobbiamo dire che si uccide una seconda volta con quelle leggi che indeboliscono le indagini gli strumenti di indagine che depotenziano il controllo dei reati la corruzione è un esempio è solo un esempio il problema dell'usura il problema delle norme sul gioco d'azzardo che sapete sono terra di conquista delle cosche e chi parla ancora della droga in Italia meno investimenti meno servizi c'è la crisi ma chi sostiene qualcuno non ha capito che prevenire fa risparmiare perché dopo i costi sono cento volte di più bisogna prevenire e narcotraffico delle droghe nessuno quasi più parla eppure è uno dei più importanti voci del bilancio delle mafie ma oggi discuteremo di tutto questo con serietà con profondità la corruzione vi prego chi è capace ma qui c'è una marea di giovani stupendi vu 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 ripartelfuturo.it lì trovate informazioni sempre quel sito non si fermerà mai vuole monitorare questa dimensione e documentarla di questo problema la corruzione ci impoverisce tutti e alla politica che in questo momento vota vota io con gioia augurandomi che ci sia una rivolta dentro le coscienze di tutti quelli oggi chiamati essere deputati e senatori la bellezza deve aver visto tante donne sorridenti giovani e la bellezza di questi percorsi di questi volti di queste storie a questa politica io credo a nome di tutti vorrei dire oggi più che mai fate solo in fretta ma soprattutto prima che tanti codici etici basterebbe che un politico tenesse in conto e mettesse in pratica le parole della Costituzione italiana e quello è quello che la politica deve fare oggi più che mai con molta umiltà e con molta forza e voi sapete i beni confiscati è significativo che il prefetto che dirige l'agenzia nazionale dei beni confiscati l'altro giorno lui ha lanciato un appello che c'è bisogno di nuove regole l'appello siamo a corto di personale la mancanza di figure specializzate e cito le sue parole che bisogna accelerare la destinazione dei beni gravati da un'ipoteca con una procedura più semplice via le ipoteche bancarie via le ipoteche bancarie ma soprattutto è il prefetto che dice è detto da lui e noi sosteniamo queste misure che ci auguriamo presto siano rese applicabili per afforzare la legge sui beni confiscati e lui dice anche abrogare la disciplina dell'autofinanziamento in quanto svilisce la ragione della 109 del 96 che è quella di restituire i beni alla collettività incominciando da avere i soldi i soldi per quelli che sono i vostri diritti per i testimoni per i familiari delle vittime per creare le condizioni che si possa veramente restituire la collettività usandoli quei beni e come è importante estendere la disciplina per i beni immobili ai beni aziendali in particolare consentendo agli enti territoriali di acquisire gratuitamente i beni aziendali qui c'è la storia di un immenso bene confiscato a un boss della cosa nostra che ci trascina da anni nonostante la volontà di tutti di restituire tutta questa azienda alla collettività allora sosteniamo tutto questo non uccidiamoli una seconda volta per mancanza per insufficienza di politiche sociali di servizi di opportunità il lavoro il lavoro 38% dei giovani non ce la fanno nel nostro paese e soprattutto mettiamoci insieme per dichiarare illegale la povertà è partita una campagna internazionale per mettere fuori legge le leggi le istituzioni e le pratiche sociali collettive che generano alimentano i processi di impoverimento dichiariamo anche noi e facciamo anche noi parte di questa campagna per dichiarare illegale la povertà non uccidiamoli una seconda volta perché senza verità o verità solo in parte non c'è giustizia abbiamo bisogno di giustizia e nella sala dei 500 a Palazzo Vecchio ieri avete sentito avete sentito il grido della mamma di Patrizia Scifo che ci ha chiesto datemi una mano perché che ha ucciso mia figlia ci dica almeno dove l'hanno sepolta e so che molti di voi nel vostro cuore l'avete gridato tante volte diteci la verità e per chi non si sa diteci almeno diteci almeno diteci almeno dove l'avete sepolta sepolti da questa città da questo palco con tutti voi la voce si alza per chiedere a quanti hanno ucciso diteci diteci almeno dove l'avete sepolti ve lo chiedono queste mamme questi papà questi figli diteci almeno questo diteci questo noi vogliamo sapere di Patrizia e non abbiamo mai dimenticato Deborah Cartisano con la sua mamma i suoi fratelli che per anni e anni hanno gridato da Bovalino diteci almeno dove l'avete sepolto Lollo Lollo Cartisano e voi sapete che il grido dopo anni è stato ascoltato e una lettera è arrivata indicando un posto sull'aspromonte dove ormai ogni anno si cammina anche lì sotto quel monte perché ci sia memoria ma perché ci sia impegno e perché loro sappiano che noi siamo più forti siamo sempre di più non uccidiamo in una seconda volta allora non vogliamo sentire parlare di benefici sono i vostri diritti che lo Stato deve garantire e lo stiamo chiedendo da anni e continueremo a chiederlo alla politica che è necessario eliminare quella data del primo gennaio 1961 perché anche chi ha perso la vita prima non deve essere solo riconosciuto ma i familiari avrebbero gli stessi diritti che non essero garantiti riconosciuti e qualificati e penso a tanti sindacalisti alla strage di portiera della ginestra e penso a tanti molti prima del 61 ma è possibile che non siamo capaci di non dare data ai morti per via di mano criminale mafiosa ma come si fa a dare le date chiediamo ancora una volta l'eliminazione del segreto di Stato in alcune situazioni e Agostino ce lo chiede quella barba la vuole tagliare la vuole tagliare Agostino e la sua famiglia segreto di Stato per fare chiarezza per la verità per la verità come l'urgenza l'approvazione sui permessi riconosciuti e attribuiti per i familiari che portano la loro testimonianza tutti chiedono la testimonianza ma chi di voi sta lavorando chi deve spostarsi ha bisogno che gli venga riconosciuto per non perdere il lavoro per non bruciare quelle energie ma lasciatemi dirvi grazie a nome di tutta questa piazza e delle piazze che il 21 di marzo leggeranno in tutta Italia quei nomi grazie della vostra testimonianza so che vi costa ma ci avete dato una lezione immensa immensa quella che trasforma il dolore in impegno graffiante come voi chiedete l'assunzione da parte delle amministrazioni per chiamate diretta personale di persone della famiglia sono quelle lunghe richieste che abbiamo consegnato al capo dello Stato ma poi non avevamo interlocutori nel governo è per questo che chiediamo una politica un governo veloce abbiamo bisogno su questi su altri temi di risposte ma soprattutto i familiari che si sono costituiti parte civile si sono troppo spesso sentiti soli a dover dare prova di essere loro le vittime li abbiamo visti intimiditi dagli imputati tante volte non lasciamoli soli ragazzi associazioni occupiamo positivamente le aule di tribunali durante quelle udienze libera la fatto si è costituita parte civile dove è stato possibile in alcuni processi non abbiamo lasciato solo i testimoni e lasciatemi in questo momento un pensiero caro a quella presenza costante in tutte le fasi del processo e lo sarà ancora per il processo d'appello per Lea Garofalo e soprattutto perché Denise sua figlia che ha avuto il coraggio di rinunciare tutto questo mettendosi in gioco non dobbiamo lasciarli soli e allora come non dobbiamo lasciare soli i testimoni e lo Stato deve rivedere tutta questa materia allora forza amici dobbiamo imparare di più il coraggio anche chi è già impegnato il morso del più deve appartenerci a tutti senza coraggio la libertà muore il coraggio di fare scelte scomode e di rifiutare i compromessi e di fronte ai vivi della vita bisogna prendere posizione decidere da che parte stare non temere mai di imboccare la strada più difficile che quella in salita la normalità del bene del coraggio ci accompagni è un segno di speranza attraversato le vie di firenze oggi perché voi sapete che un buon numero di familiari ha scelto di andare negli istituti penali minorivi e non posso dimenticare una mamma che è qui con noi nel suo silenzio nella sua grande testimonianza nella sua grande dignità che un giorno in carcere eravamo insieme mi dice Luigi quel ragazzo che sta venendo verso di me è quello che ha ucciso mio figlio e quando ho visto dove è nato dove vive le sue condizioni certo la giustizia deve fare la sua strada il suo percorso ma io mi sono chiesta poi dove va è la mamma del ragazzo che è stato ucciso che va a trovare l'assassino di suo figlio e qui tra di voi ci sono tanti familiari ma qui hanno camminato per le vie di Firenze ragazzi e ragazze dell'area penale minorile di varie parti d'Italia che stanno facendo dei percorsi di responsabilità di partecipazione di presa di coscienza anche questa è una pagina che abbiamo scritto insieme l'avete scritta voi come le migliaia di giovani che partono ogni anno per i campi di volontariato e state liberi sui beni confiscati in tutta Italia è il bene che dobbiamo riconoscere che riconosciamo qui su questa piazza dove in oltre 150.000 abbiamo camminato oggi lavoreremo nei gruppi il 21 a rimoltiplicare questa coscienza questa responsabilità lo so che i nostri limiti sono tanti gli errori le fatiche sono tante proprio tante che non si riesce ad arrivare dove si vorrebbe che non si può rispondere a tutti per costruire un momento come questo si deve rampicare sui vetri per trovare i mezzi di strumenti ma costi quel che costi ci siamo anche indebitati non verrà mai meno un momento per gridare forte all'Italia che è un problema di democrazia quello che stiamo vivendo in questo momento perché la democrazia è passione e ragione è coscienza critica la democrazia ci chiede e ci chiede di vivere l'uguaglianza e democrazia significa diversi come persone e uguali come cittadini allora Firenze città del rinascimento e il rinascimento morale civile politico è possibile solo se parte dal cuore di ciascuno di noi il nostro impegno è un impegno in prima persona vi prego in prima persona la speranza chieda ancora una volta a tutti assunzione di responsabilità non delegare ad altri quello che possiamo e dobbiamo fare noi ci vuole speranza c'è bisogno di grande speranza essere noi segno di speranza l'incendio la città della scienza città della cultura Napoli per noi vale quelle bombe perché la cultura che dà la sveglia alle coscienze è la cultura che dà maggiori strumenti di libertà alle persone è la cultura che ci consegna il termometro dello stato di salute e della democrazia di un paese noi ci saremo quando sarà possibile a collaborare con la città di Napoli a ricostruire quei campi di lavoro di volontari a portare il nostro contributo da tutta Italia Nino Caponnetto diceva e con lui ci salutiamo il nostro grande Nino Caponnetto diceva che la mafia teme più la scuola che la giustizia l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi alla cultura mafiosa amici assumiamocela di più questa responsabilità e questo impegno e a maggio se l'ha proclamato beato Don Pino Puglisi ucciso dalla mafia Don Puglisi e speriamo beato anche il nostro Peppino Diana eh sì eh sì anche Peppino Diana ma attenzione per Don Puglisi non era un segno di sconfitta che il suo impegno sociale portasse a un esito diverso dall'abbracciare la fede lui operava incontrava ascoltava tutti tutti che bello è quello che questa piazza rappresenta è quell'incontro ecumenico così profondo di ieri sera per lui contava che le persone imparassero lo stupore e la conoscenza in quella dimensione lui era certo che le persone che lui incontrava avrebbero trovato tutti il loro modo di credere e di vivere continuiamo continuiamo a camminare insieme testo